La rete fu finalmente allestita e calata il 7 maggio del 1970. Quell'anno furono catturati 220 tonni in tre mattanze. Durante la stagione si consolidò il rapporto di stima e fiducia tra Agostino e Beppe Anfossi, rampollo della storica famiglia di imprenditori genovesi che dal 1860 era proprietaria della Tonnara. Beppe Anfossi si era trasferito nel palazzotto seguendo le orme dei suoi antenati. Anfossi si integrò con noi il secondo anno. Il primo anno che arrivò, il 1969, stava sempre al palazzotto e non abbiamo mai parlato. Nel secondo anno, quando ormai la ciurma era stintinese, si legò a noi e l'amicizia e la stima tra noi è rimasta immutata. Io gli ero simpatico perché mi mischiavo nelle faccende di Tonnara. Quando qualcosa non andava bene, io ero l'unico che protestava e davo consigli. Ad esempio, il Larrae Saravano, mentre si stava calando la Tonnara, andò con la musciare in alto e trovò circa 300 tonni che circolavano nella rete. Invece di preparare il corpo per mattanzarli, ordinò che fosse completato il calo della Tonnara con la coda. Io lo fronteggiai e gli dissi che in quel momento, visto che la Tonnara era piena di tonni e che si rischiava di perderli, era inutile completare la coda, ma bisognava preparare il corpo per mattanzare. Il Rais in un primo momento si rabbuiò per questa mia interferenza, ma alla fine riconobbe la mia concretezza. Questo episodio fu probabilmente decisivo al momento della scelta di Agostino come Rais, fatta dai proprietari della Tonnara. L'essere diventato Rais non cambiò il modo di Agostino di rapportarsi con gli altri pescatori. Ho sempre parlato con schiettezza, senza guardare in faccia nessuno. Mi veniva distinto. Non ero autoritario. C'era democrazia. C'era molta democrazia. Ero comune con tutti. Non c'era differenza. Anzi, discutevo molto con gli altri, soprattutto con quelli che già erano stati i miei colleghi in Tonnara. Però tutti mi rispettavano. A volte si discuteva sull'orario per andare in alto, soprattutto quando stabilivo che bisognava uscire alle 5 del mattino. Ma poi le persone si rendevano conto che la mia scelta era giusta per il lavoro che era necessario fare. In passato sicuramente c'era un maggiore riconoscimento da parte degli altri del ruolo del Rais. I giovani, per esempio, non parlavano mai con lui e nella trave della Tonnara si sedevano con il Rais solo poche persone, soprattutto i capibarca e i più anziani. I Rais erano molto severi, ma quando sono diventato Rais io, i tempi erano cambiati e c'erano molti giovani imbarcati inesperti e io parlavo molto con loro per incoraggiarli. Era tradizione che Rais, quando tutto era pronto per la cattura dei tonni, si togliesse il cappello e recitasse la preghiera in genovese. Questo rito dava inizio alla mattanza. Quando divenne Rais Agostino queste tradizioni si erano un po' perse, ma... La preghiera la diceva al capobarca, non io. Io non ero di quelli che... Non ero contrario ai santi, sono anche religioso, però queste preghiere in mare... Dico la verità, queste tradizioni non è che ci credo molto. Mi affido di più alle barche, alle reti, al lavoro che alla preghiera. La preghiera è bella, però quello che ci vuole è lavorare e che sia tutto a posto. L'anno successivo, il 1971, alcuni componenti dell'equipaggio si rifiutarono di partecipare alla Tonnara. Quindi Agostino si recò a Genova per discutere con Anfossi dei vari problemi relativi alla nuova stagione di pesca. Beppe Anfossi ricorda così quel giorno. Ero sfiduciato. Ci parlammo come sempre con grande sincerità e pur temendo che la campagna di pesca avrebbe potuto comportare delle grosse perdite di denaro per la società, lo convinsi velocemente nel giro di due minuti che ridoveva calare. La Tonnara era la bandiera del paese e non ci potevamo permettere di mollare proprio ora. Sarebbe finita per sempre. Agostino tornò a Sintino e da quell'intelligente e saggio uomo che è, riuscì a mettere su una ciurma valida. Il grande sentimento dei pescatori per la Tonnara era completamente condiviso anche da me. Durante quella stagione furono catturati 125 tonni. Tuttavia il declino del mondo delle tonnare era ormai inevitabile e coinvolgeva tutte le tonnare della Sardegna ancora in attività. Nel 1972 furono catturati solo 50 tonni. In quella mattanza, una delle ultime, mi sono accorto che si era formato una piega nella rete, in un angolo della camera della morte. C'erano pochi tonni e uno di loro vi si era infilato, rischiando che si liberasse. Allora ho urlato affinché si tirasse subito quella parte della rete. Infatti sarebbe stato un grande motivo di disonore per me perdere un tonno dalla camera della morte. L'anno dopo, Agostino, in accordo con i proprietari della Tonnara e memore delle esperienze del passato, calò la Tonnara presso la punta Barbarossa nell'isola della Sinara, con l'autorizzazione della direzione carceraria, poiché il suo intento era quello di allontanarsi dall'industria petrolchimica della SIR di Porto Torres, ritenuta la causa del mancato passaggio dei tonni nel golfo della Sinara. In quello stesso anno fu sottoscritto un contratto tra i proprietari della Tonnara e la cooperativa Pescatori di Sintino, della quale Agostino era presidente per il comodato d'uso delle attrezzature. Non fu catturato neanche un tonno e la chiusura della Tonnara dopo secoli di vita fu inevitabile. Prima qui nella Tonnara di Sintino era tutto tranquillo, ma nel 70 era nata Porto Torres la SIR, che ha cominciato a costruire i pontili, a fare scoppiare mini in mare, ed è stata la prima rovina di questa Tonnara. Cominciarono anche ad arrivare le grosse petroliere nel golfo. Insomma, noi abbiamo protestato, ma siccome la SIR era una potenza, non ci ha dato ascolto nessuno e nel 1973 non abbiamo preso neanche un tonno. La nostra cooperativa di pescatori aveva preso l'impegno con i padroni della Tonnara, che davano tutte le attrezzature, di provare a spostarla più sotto vento. Però, secondo me, ci siamo spostati troppo poco. Siamo andati alla prima punta dell'Asinara. Invece noi dovevamo andare dove calavano la vecchia Tonnara dell'Asinara, che poi non è stata calata più per le correnti, che però con le nuove attrezzature si possono contrastare. Ma noi non abbiamo avuto il coraggio di andare dove si calava prima e dove volevamo, e anche come avevamo pensato di fare di recente. Ma non ce l'hanno permesso, perché ora c'è il parco dell'Asinara con la zona di mare protetta. E così è finita la Tonnara Saline di Sintino. Nel 1974 la Tonnara Saline chiuse definitivamente. Un ultimo tentativo di far rivivere la pesca del Tonno Assintino si ebbe a titolo sperimentale nel 1996, questa volta sulla base di motivazioni non solo economiche, ma anche culturali e scientifiche. Si decise di ricollocare la Tonnara nel sito storico, ingaggiando una parte del personale che aveva già operato nella Tonnara Saline durante gli anni 70. L'idea era quella di far rivivere una grande tradizione del paese, che si stava perdendo nel tempo e che sarebbe potuta diventare un importante volano economico. Si costituì allo scopo un nuovo gruppo imprenditoriale, la società Stintino Tonnare Nord-Ovest Sardegna, presieduta dall'allora sindaco Giovanni Greco e diretta da Antonio Diana. La scelta del RAIS cade su Sarino Rosario Asaro, siciliano di Castellammare del Golfo, discendente da una famiglia di tonnarotti che aveva già diretto Tonnare in Sardegna, Libia e Sicilia e che introdusse una Tonnara più piccola, costituita da tre sole camere. Agostino ne fu molto incuriosito e trascorse con lui diverse serate a discutere di questa innovazione tecnica. Si decise di ubicare la nuova Tonnara esattamente nella stessa posizione dell'antica Tonnara Saline, ma purtroppo non fu catturato neanche un tonno. L'anno successivo Agostino fu convinto a cimentarsi ancora come capo pesca e il 29 maggio 1998 diresse l'ultima mattanza del secolo nel Golfo dell'Asinara. Durante quella memorabile giornata furono mattanzati 23 tonni e tre esemplari furono marcati dai ricercatori diretti dal professor Gregorio Demetrio e liberati al fine di studiare le rotte dei branchi nel Mediterraneo. Purtroppo anche la Tonnara sperimentale non ha avuto successo e l'attività della pesca del tonno tradizionale si è conclusa. Sono fiero di essere l'ultimo erede di una tradizione sapienza così antica. Io so tutto della Tonnara e forse gli altri, salvo qualche eccezione come i miei coetanei Emanuele Schiaffino e Gavino Valle, non hanno conservato la memoria, non l'hanno coltivata e la maggior parte non si è mai interessata a ciò che la Tonnara ha rappresentato per Stintino. Mi dispiace non aver potuto tramandare ad altri la tradizione e la sapienza della Tonnara. Oggi forse sarebbe possibile calare una Tonnara all'Asinara. Ne avevo anche parlato con un ricercatore spagnolo dell'Università di Santander, José Cort, durante la marcatura dei tonni, il quale addirittura aveva fatto una proposta durante un convegno sul parco dell'Asinara per calare una Tonnara museo nell'isola. Vedere morire la Tonnara è stato un grande dispiacere. Era una tradizione per Stintino, un paese che è nato per la Tonnara. Agostino racchiude in sé tutte le qualità del rice, intelligenza, sagaccia, esperienza, discrezione, equilibrio nelle decisioni, carisma, conoscenza del mare, attitudine al comando e grinta. Protagonista e testimone del rito antico della mattanza, al quale ha affidato il compito di preservare e tramandare la memoria, la sua vita e la sua esperienza sono parte integrante del patrimonio immateriale relativa all'ormai quasi leggendaria pesca mediterranea del tonno. Egli, a buon diritto, ma come gli è confacente, in punta di piedi, è entrato a far parte della schiera dei mitici rice del Mediterraneo, insieme ai siciliani Renda, Solina, Spataro, Cataldo. Grazie.